Nel pomeriggio di ieri i componenti dell'Associazione Socioculturale God Tremari d'Italia, sezione di erice, hanno voluto rendere visita all'unità operativa di chirurgia generale del distretto ospedaliero Sant'Antonio Abate di Trapani, diretta dal dottor Paolo Buffa, per ringraziare i medici e il personale sanitario tutto del reparto per il loro pregevole lavoro a sostegno dei pazienti che assistono. L'unità di chirurgia generale del Sant'Antonio Abate è un fiore all'occhiello della sanità provinciale, afferma il dottor Piolo Giudice, presidente dell'Associazione God Tremari di Erice, e si distingue non solo per la professionalità di medici e paramedici, ma anche per l'umanità con la quale trattano i pazienti ricoverati. L'Associazione Socioculturale, attraverso i suoi scritti e componenti attivi, ha voluto rendere merito al dottor Buffa e al suo reparto in occasione delle festività di fine anno, consegnando al primario, ai medici e al personale infermieristico alcune targhe di ringraziamento, cioè il premio Nunzionasi, per il loro costante apporto al miglioramento delle condizioni di salute dei pazienti che assistono. Il lavoro silenzioso dei medici e degli infermieri dovrebbe essere applaudito e preso ad esempio da qualsiasi persona che abbia a cuore il miglioramento della società, continua lo giudice. Noi, dell'Associazione God Tremari d'Italia, abbiamo voluto ringraziarli per il loro impegno e oggi, ancora di più, li ringraziamo per le emozioni e le belle sensazioni che ci hanno suscitato durante la visita del reparto. Dopo lo scambio di auguri con il personale medico e paramedico, i componenti dell'Associazione God Tremari d'Italia hanno consegnato dei panettoni da distribuire ai pazienti in cura e ai loro familiari.